Partendo dall'assunto che il crimine non paga, anzi non paga più, si deve registrare uno sviluppo nell'operazione Rimpiazzo coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia dello scorso mese di aprile, grazie alla quale furono emesse 31 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dalle squadre immobili di Vibo Valenza e Catanzaro e dal Servizio Centrale Operativo, che vide l'impiego di oltre 200 poliziotti a Vibo Valenza e altri nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L'Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano e Udine. E dello scorso weekend la chiusura delle indagini che ha permesso di dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo è messo in via d'urgenza nei confronti di otto esponenti del clan dei Pisco Pisani, quattro dei quali già in carcere. Si tratta di beni mobili e immobili, nonché società e imprese individuali ubicati nelle province di Vibo Valenza e Bologna, nonché quote societari e la cui titolarità riconducibile a persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale, detenzione e porto illegale di armi e di esplosivi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e intestazione e fittizie di beni, tutto aggravato dal metodo mafioso. Le attività di indagine hanno dato l'astura a quello che noi riteniamo delle appropriazioni illecite di patrimoni, quote di società, appartamenti, beni mobili, locali pubblici, soprattutto esistenti nella provincia di Vibo, che riteniamo essere stati acquisiti dal provento illecito delle attività. Le indagini che avete svolto hanno confermato che il clan dei Pisco Pisani cercava di avere sopravvento su quello dei Mancuso in provincia, cercando quindi di rimpiazzarlo in tutte le attività illecite. Anche il sequestro preventivo ai fini di confisca ne dà conferma. L'operazione denominata rimpiazzo vale proprio a testimoniare questo. Il clan era il gruppo criminale individuato, era assolutamente proiettato a cercare di espandersi sempre più sul territorio vibonese e non solo. Gli specialisti del servizio centrale operativo, del servizio analisi delle attività, delle indagini patrimoniali e delle attività investigative condotte in sinergia dalla squadra mobile di Vibo Valencia e della squadra mobile di Catanzaro hanno consentito, ripeto, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il raggiungimento del risultato odierno.